Sono le mani, ispeziona le unghie. Mezione esatta? Il pane è poco, signore. Pesalo. Ce n'è di troppo. Dagliere un pezzo. È giusto? Sì, signore. È giusto? È giusto? Su, con quella ginocchia! Su, attento! Ingocia! Verpi, adesso! Dentro! In cella! Burton! Ci penso io! Quando lo prendo il rancio? Troppo tardi. Oramai. Amore. Sì, assenės salto!